Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Questi principali titoli dei quotidiani relativi alla Fiorentina La Nazione, Lotta al Palazzo, Rocca in Azione Commisso guida alla rivolta per un calcio giusto ed economicamente equo Alleanza con le altre proprietà straniere Per una Serie A vicina al modello Premier Corriere Fiorentino, com'è dura la salita La sconfitta contro l'Atalanta E i risultati degli altri avversari Complicano la posizione della Fiorentina I Viola sono ad appena 6 punti dalla zona retrocessione Gli sforzi sul mercato non hanno ancora inciso E i progressi dal punto di vista del gioco sono limitati Il lavoro da fare per migliorare i risultati dello scorso anno è ancora tanto Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola